salve a tutti ragazzi eccoci di nuovo qua con il vostro azzurra e oggi abbiamo come ospite niente po po di meno che il tog qualcuno dirà azzurra cavolo sei impazzito come cavolo ti passa per la destra di fare la review anzi di perdere tempo nel fare la review del tog beh ragazzi il tog è leggenda probabilmente il carro più simpatico del gioco perché tutti quelli che lo vedono hanno ognuno le azioni sue personalizzate che possono andare dal disprezzo disgusto simpatia e quant'altro prima di vederlo in azione buttiamo un occhio sulla carta velocissimamente perché non è che il tog abbia tanti termini paragoni il tog è unico quindi c'è ben poco da vedere ho scelto di fare una roba super semplice cioè il tog e il corrispondivo tier 6 inglese come possiamo vedere il tog è equipaggiato con la 70 pounder gun un cannone che gli inglesi hanno messo anche nei tostapane mentre il church il 7 equipaggiato con un cannone un po peggiore dal punto di vista del handling è la 77 mm quest'altra invece è 70 pounder boh mi sa che una è 75 una è 77 una roba del genere ok vediamo ma no sono tutte e due 77 mm 76 2 solamente che quella del church è più sfigata come penetrazione e danno però spara di più per quello che riguarda il gun handling sono entrambi buoni quello del church il 7 molto molto buono ma il problema del church il 7 è che il cannone non si abbassa mentre il tog ha un prodigioso 10 quindi il firepower non è male affatto per essere un tier 6 vi ricordo che è un tier 6 premium con il matchmaking agevolato quindi 6 7 non incontra mai tier 8 per quello che riguarda la mobilità qui sono note dolenti per entrambi perché il church il è praticamente fermo e inchiodato al terreno è il pesante proprio nei pesanti più lenti probabilmente anche lo è più veloce e il tog riesce a fare peggio e qui qui la leggenda nasce da qui la super salsiccia mannara immobile il tog vagone ristorante allora qualcuno dirà ma un armatura fantastica no armatura è una merda armatura del lull che è gigantesco il tog mi sembra che sia il carro più grande del gioco proprio come dimensioni e lunghezza e quant'altro e la torretta un po meglio a un 114 ma siccome tutta armatura piatta l'armatura fa veramente schifo mai farci affidamento la leggenda del tog perché ispira simpatia perché per qualcuno il tog è un gigantesco bersaglio dal quale vengono fuori vieni fuori un sacco di vn8 però ecco il lato positivo più più grande lato positivo del tog sono i 1400 punti ferita non prende particolarmente fuoco è diciamo un carro più che altro simpatia comunque se lo fate arrabbiare premendo 2 la penetrazione sale a 239 quindi il cannone del tog è tutt'altro che da sottovalutare non incontrando gli otto se se si arrabbia può dire la sua equipaggiamento consigliato caricatore ventilazione e ottiche per migliorare la vista visto che non è neanche particolarmente non ha neanche una vista particolarmente buona quindi da lontano è un bel bersaglio questo è sempre un bel bersaglio si fa fatica a nascondere eccolo qua il vagone ristorante del tog come possiamo vedere si entra da qui dove è l'ingresso al ristorante si si qui si entra da qui abbiamo il comparto vivante qua ci sono dei tavoli disposti in ordine questo carro è molto lento perché viceno storico era un veicolo da supporto per la fanteria inglese la fanteria si muove a una velocità pedestre di circa 4 km all'ora gli inglesi decisero di fare questo scroto con una velocità massima di 14 chilometri all'ora e la wargaming ha avuto la malaugurata idea di attenersi ai parametri storici il gioco è tutt'altro che un simulatore di carri armati e molto arcade ma il carro l'hanno voluto rovinare con un'armatura assolutamente inutile la forma ok super simpatica gigantesca e il veicolo è immobile quindi non aspettatevi che la vostra corazza vi protegga in alcun modo solamente messo in all down è difficile anche nascondere abbiamo un 110 120 veicoli del tier 6 riescono a danneggiarvi senza problemi andiamo all'azione non perdiamo altro tempo perché il tog è tutto quanto cannoni e tutto quanto punti ferita eccolo qua guardate le dimensioni sono pazzesche l'artiglieria festeggerà quando vi vede i kv2 si sfregano le mani perché il tog è uno dei carri in grado di resistere a due colpi due penetrazioni nette di kv2 quindi due due colpi ben assestati e il proprietario del kv2 farà un enorme quantitativo di 4 n8 io addirittura lo sto giocando con il cibo premi una velocità di 14 chilometri all'ora massima eccola qua potrei mandare alla benny hill lo farò manderò il tog a doppia velocità quindi anziché 14 28 piano lo stesso però siamo arrivati sul campo di battaglia il tog non fa affidamento sull'armatura ma c'ha un botto di punti ferita e il canone è molto molto pericoloso il dpm non è male 3 7 tempo di ricarica è preciso a poca dispersione la penetrazione c'è tutta quella che serve sia con le standard che con i premium inizio arrivare prima guardate mi ha bugato un t14 che sta ovviamente 14 è arrivato subito con i proiettili premium questo antipatico ragazzo a 1.9 di guarni 8 quindi stava cercando di di pompare magari un po gli equipaggi dei suoi pesanti americani con il t14 è stato sfortunato perché il tog blocca un colpo la penetrazione del t14 abbastanza vergognosella non so neanche perché sto sparando proiettili premium contro il t14 contro quella la schifezza probabilmente tra un po rinsavirò comunque vedete sto ricevendo un sacco di proiettili premium quindi sembra che il tog sia classificato come pericoloso riesco a togliere il panzer 38 ed eccola la funzione primaria del tog tanti punti ferita tanti punti ferita mi hanno permesso di incassare un sacco di colpi io mi sono preso ben 800 danni qualunque altro pesante del tir 6 sarebbe allo strenulo dei suoi punti ferita perché solito stanno sugli 850 punti ferita mentre il tog può conto a può contenere andare avanti sto bloccato un altro colpo di angolandolo molto i cingoli sono spessi ogni tanto qualche colpo miracolosamente sono riuscito a dare fuoco al kv1 attenzione non pensate che il tog sia in grado di fare oltre 2000 anni così facilmente come avete visto perché questa esca la mappa più piccola del gioco e quindi il tog è potuto subito andare in azioni addirittura come vedete a velocità per 4 quindi 14 28 56 chilometri all'ora incredibile magari facesse questa andatura torna a difendere mette a segno un paio di colpi su un più che corazzato e 2 americano dopodiché cerco di andare a decappare utilizzando il mio per 4 ma purtroppo la partita finisce qui e il nostro tog si porta a casa 4 kill domina questa partita andiamo a vedere le post game stat qualcuno mi insulterà per aver fatto la review del tog maestria fenomeno ho dato fuoco medaglie minori grosso calibro eccolo qua 2300 anni 4 kill non pensate che questa è la normalità però i punti ferita e il cannone sono delle armi buone l'importante è non beccare una mappa aperta sono anche riuscito ad andare in po in positivo con nonostante il gozziglione di proiettili premium che ho speso e quindi il tog è il carro più simpatico del gioco si è un buon carro no assolutamente no e purtroppo per addestrare i vostri equipaggi pesanti inglesi non c'è molta scelta excelsior tog fv 201 a 45 sono tre veicoli che praticamente non si vedono mai in gioco e difficile anche comprarli non mi ricordo in questo istante se l'excelsior è disponibile dal tech 3 nel caso in cui fosse disponibile al tech 3 l'excelsior è il migliore dell'otto lo andremo andremo fare la review in un altro tempo è un tier 5 tantissime persone sono contrarie a giocare il tier 5 il tog non vale i soldi che la wargaming chiede a meno che comunque sia anche stato tolto dal gioco lo si può acquistare solo in occasioni particolari non vi consiglio di acquistarlo in occasioni particolari perché la terribile mobilità rovina completamente il veicolo se la wargaming decidesse di aumentare di un bel po il rapporto peso potenza di spostare la velocità almeno al doppio quindi almeno un 25 km all'ora dargli un po una mobilità da kv2 il tog non sarebbe assolutamente op ma magari qualcuno lo giocherebbe e sarebbe un vero piacere incontrare almeno una volta all'anno e il carro più simpatico del gioco sul campo di battaglia va bene ragazzi per questa review velocissimo è tutto scrivete gli insulti che volete il canale youtube mi è capitato di fare una partita col tog di prenderci il fenomeno il caro più simpatico del gioco la review la merita ragazzi anche questa volta abbiamo fatto il vostro azzurra vi saluta vi da appuntamento live streaming on twitch ora prossimo video su youtube channel